Via, buon divertimento! Le 400 e più persone che hanno voluto partecipare domenica 2 ottobre alla 11esima edizione della Cucuran, la gara apodistica della solidarietà, non se ne aspettavano nemmeno gli organizzatori. La giornata, iniziata fin dalle prime ore del pomeriggio, si è prospettata da subito come un'occasione per passare, oltre che una domenica di sport e svago, anche momenti di vicinanza alle popolazioni terremotate. Una domenica per tutti, dove i bambini, oltre alla loro garetta, avevano a disposizione anche gonfiabili e una pesca di beneficenza. I ragazzi, dagli 11 ai 17 anni, un chilometro e mezzo dove gareggiare e dare il meglio di loro. E poi, per i grandi, nel pomeriggio, lo storico Memorial G. Burrai, da cui prende il nome anche il Circolo Acli di Cucurano, organizzatore dell'evento. Il tempo ci ha fatto un po' soffrire nella nottata, però sinceramente poi tutto è andato per il meglio, le cose sono andate tutte lì, se c'è stata una buona partecipazione sia dei bambini che di adulti abbiamo superato i 400 iscritti, quindi un bilancio positivo. Alla fine, premi e merenda per tutti insomma, ma evento nell'evento, la matriciana, il piatto simbolo del sisma del centro Italia, che è tornato a unire tutti per il sostegno a chi ha subito la tragedia del terremoto. La comunità di Cucurano ha accolto positivamente questa iniziativa del gruppo solidale di Cucurano, insieme al Circolo, alla parrocchia, all'oratorio, alla stazione, tanti sono i partecipanti per mangiare questo piatto di amatriciana accompagnato da un buon vino.